Salve amici del Centrometro Italiano, weekend asciutto grazie all'espansione dell'anticiclone verso l'Italia, salvo qualche residuo a pioggia. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 9 marzo. Al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno al centro nord e qualche nube in più al sud. Isolate piovigini possibili solo sulla Liguria, così come anche al pomeriggio, mentre altrove il tempo risulterà stabile e generalmente soleggiato. In serata e inottata nuvolosità in progressivo aumento ad iniziare dal nord ovest ma senza fenomeni, salvo qualche piovigine ancora sulla Liguria di Levante. Concludendo con le temperature, sia le minime che le massime rimarranno stabili o tenderanno a diminuire. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.